E' stata arrestata mentre documentava la mattanza di delfini nelle acque a nord dell'Atlantico, nelle isole Faroe in Danimarca. L'accusa per lei e i suoi compagni di aver violato le acque territoriali. Ora Marianna Baldo, attivista dell'organizzazione No Profit Sea Shepherd, fotografa residente romano Dezzelino, è costretta a restare sul natante su cui si è imbarcata fino al processo che ci celebrerà non prima di due settimane, trattenendole anche i documenti. Al momento dell'arresto era a bordo di un gommone e stava riprendendo una caccia tradizionale, nella quale ogni anno tra Scozia, Norvegia e Islanda vengono uccisi centinaia di globi cefali, una sorta di delfini. Noi avevamo incontrato e intervistato Marianna Baldo qualche tempo fa, quando si trovava in Antartide, in una delle sue prime uscite tra le fila dell'associazione a difesa dell'ecosistema e per salvare le specie selvatiche degli oceani dal massacro. Deci mesi fa mai avrei immaginato che la mia vita mi avrebbe portata così all'improvviso a fare la fotografa ufficiale di bordo di una delle navi della flotta di Sea Shepherd, per cui anche con un ruolo che mi ha permesso veramente di vedere, di documentare tutto quello che stava avvenendo dentro e fuori la nave, e soprattutto le attività di confronto, anche difficile se vuoi, visto che siamo stati speronati più volte, abbiamo rischiato di perdere la nave. E come non si è arresa allora la fotografa di Romano Dezzelino, uno dei pirati buoni del mare, non si arrenderà neanche ora.